La vita del cosiddetto super bonus sembra ormai esaurirsi. La misura è destinata probabilmente ad essere cancellata o smontata nella prossima finanziaria. Il bilancio della sua riuscita a tre anni dalla sua introduzione divide gli economisti e le parti politiche. Da una parte c'è l'obiettivo di rilancio del settore dell'edilizia e di tutto l'indotto indiretto che esso genera. Dall'altro, tuttavia, si tratta di una misura insostenibile alla lunga per lo Stato, complicata per quanto riguarda i controlli e in maniera indiretta ha contribuito alla bolla speculativa e al conseguente aumento dei prezzi. Tant'è, il governo è pronto a tagliarla, ma qual è il bilancio per la nostra regione? A fornire la fotografia è l'Enea che si occupa proprio delle pratiche del cosiddetto 110%. La Toscana può dirsi sostanzialmente virtuosa. Al 31 agosto ben l'85,3% dei lavori era stato realizzato, un dato superiore alla media nazionale dell'81,9%. Ma veniamo alla tipologia. In totale, qui come altrove, sono molte più le villette e i terratetti che i condomini ad aver usufruito del bonus. Su 33.690 edifici, solo 4.300 sono palazzine, un dato in linea con il 17% a livello nazionale. Il resto sono case singole o funzionalmente indipendenti. Va da sé che l'obiettivo trainante della misura di ridurre l'impatto ambientale dei nostri edifici mal si concilia con la stragrande maggioranza degli investimenti che hanno risolto o migliorato piccole unità e hanno ridotto solo parzialmente il consumo dei grandi stabili. In Italia, su 425.000 edifici ristrutturati, ci sono anche sei castelli. La nostra regione è la quinta in Italia per numero di asseverazioni, ovvero di edifici ammessi alla ristrutturazione, dopo Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, anche se da noi il numero è la metà di quello della regione meneghina. Ma veniamo ai conti. In totale, la Toscana ha pesato sulle casse dello Stato per 4.719.000.000 di euro, non proprio noccioline, ma solo una piccola parte degli oltre 76 miliardi che, almeno fino ad oggi, sono lo scontrino totale del super bonus per l'erario pubblico. Per capirsi, l'intera manovra dell'anno in corso valeva circa 35 miliardi. Varia anche l'investimento medio per tipologia. Per villette e unità indipendenti siamo intorno ai 100.000 euro medi per asseverazione, sia in Toscana che nel paese. Per i condomini la media di spesa è intorno ai 490.000 euro nella nostra regione, molto più bassa dei 640.000 euro nazionali o addirittura dei 740.000 della Lombardia. La differenza di costo dipende evidentemente dai prezzi di prodotti e mano d'opera, da noi più bassi che altrove, ma anche dalla qualità e quantità degli interventi di ripristino. Ultima nota, non secondaria, visto il destino segnato della misura, sono in crescita le domande di finanziamento e, di conseguenza, i costi della misura.